Amici di Monferrato Web TV, è appena cominciato il concerto live di Sergio Caputo Trio, da pochi minuti siamo qui all'ingresso del chiostro di Santa Croce a Casale Monferrato, siete ancora in tempo per raggiungerci e godervi la serata, due concerti di questa sera, se non poteste, se non riusciste a fare in tempo, vi diamo appuntamento nel proseguo del nostro festival che si snoda per tutta l'estate fino a settembre, ma vi diamo gli appuntamenti di domani, sabato 24 giugno, siamo a Casale Monferrato con tantissimi appuntamenti e ingresso gratuito alle 16, Taste the Swing al campus manuale per raspirante l'Indie Hopper, se si balla domani a cura di Kitchen Swing, che ritroverete anche alle 18 con il Flash Swing Mob e il concerto di Panico e Rogato, invasione di Lindie Hoppers in piazza Mazzini a ingresso gratuito, ripetiamo, e poi alle 18.30 Jets in piazza, nell'ambito del nostro percorso passeggiate musicali, l'ingresso è sempre gratuito, e poi vi terremo compagnia tutto il weekend, anche nella giornata di domenica, dove il grande protagonista sarà il lungo Po, vi aspettiamo dall'alba al tramonto, letteralmente, perché la nostra giornata del Monfra Jets Fest comincerà alle 7 del mattino con la tradizionale ormai alba sul Po, colazione monferrina a cura dell'associazione Amici del Po e alle 8 il primo concerto della giornata, con Giovanni Di Carlo Trio, concerto in gemellaggio con Borgo in jazz, e poi il concerto successivo sarà il tramonto sul Po alle 19.30, con funamboli, circo e jazz in acrobatici equilibri, all'imbarcadero del Po con Giorgio Bertolotti e Max De Alloe, una produzione esclusiva per le Muse Accademia Europea d'Arte per il Monfra Jets Fest 2023, dall'alba al tramonto, chiaramente vi proponiamo tanti tanti eventi, dalle 10.30, 11.16, con Fia Bengezza, lo scoperto delle farfalle, esplora la foresta, in collaborazione agli amici del Parco del Po, e poi ci sarà anche il giro in barca consueto a cura dell'associazione Amici del Po. Allora, il nostro weekend è appena iniziato, il nostro festival proseguirà fino al mese di settembre, ma vi aspettiamo già stasera, se riuscite a raggiungerci qui a Chiostro di Santa Croce, oppure sabato, oppure domenica, siamo qui per voi, Monfra Jets Fest 2023.